Sì, infatti in un pullar da qua. Sì sì, non andavi chiamato il ridi. Venglilo! E' arrivato di là. Pazzo. Hai un solo stack, giusto? Sì sì. Quindi scale tra 20 secondi, giusto? 18. No beh, se è uno non è poca cosa. Prima erano 5 gli stack, quindi si va a fare un po' tempo. Iniziamo a spostarci? Aspetta, aspetta che ti scade. Ho scaduto. Ok, andiamo. Attenti. Add perché è sul viola, eh. Facciamo sti add. Preso. Preso. Commentati, mannaggia. Vabbè, è normale, dai, andiamo. Ok. Dov'è il boss? Eh, no, è cambiato la drago qua. Arrivato il salto. Dimmi quando ti scadono gli stack di sondra, eh. Ah, 18 secondi. L'avete fatto il portale? Sì. 65. Aspettiamo, dimmi quando sono scaduti che ci spostiamo. 6 secondi, 5 secondi mi inizio a spostarmi, dai. Ok. Ok, scaduti. Prendo Terrier. Preso. Forza, 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 forza. Valle sta nubola. Ok, cominciamo a muoverci. Ok. Preso. Attenzione poison, attenzione nuvola, poison. C'è una piantina, qualcuno ci va da sopra. Qualcuno può restare base, Matt? È troppo lontano. Come ne siamo? Non abbiamo un gasaggio. C'è un resto per base, Matt? No, di qua non la prendo base, Matt. Non ce l'ho in mezzo. Ne sono qui, eh, con te. Ma ci siamo tutti di resta nello stesso lato. Presa, presa, presa. Sì. No, no. Presa io. C'è ancora di stack, di soldi. No, no, scaduti, scaduti. Dai, 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 scadamoci. Presa. Cambio, via. Guardate che non c'è l'IU per entrare nel portale adesso. Dani, vai tu. Vado io con loro nel portale. Poco dormito, non ho... Non ho capito il cazzo, è tutto. Sì, vado io, vado io. Stanno arrivando le ombre qua, i add. Ora, portale, ora, ammobilizzato. Vado io, vado io, siamo già dentro. Add. A centro campo. Faccio io il primo inter-rap. Ok. Che è l'unico che ho. 10 secondi, ci spostiamo, eh. Basta, non ne ho più, eh. Ragazzi, non ci possiamo spostare se le ombre non muoiono. O se riesco col typhoon. Ok, Jenny, spostiamoci. Oh, cazzo. Ok. Occhio alle ombre. Merda. Presa. Vai, fatto il portale. Tartu, non innervate. Tirate su voi, due ombre. Attenti. Attenzione a quello spirito, bloccatelo. Quanti stack hai, Jenny? Ok, scaduti. Proviamoci, dai, dai. Troppo a rischio. Presa. Via. Io sto dormendo. Calmi, calmi. Andiamo a calmi. Luca, mi resti? Non ho tutto le robe che mi avevano fatto. Eh, l'ho già usato. Aspetta, aspetta, dove sei, dove sei, dove sei? Stiamo accanto a te. Add, add, add. Add, add usciti qua sul viola. Aoi. Mi libero arrivo, eh. Attenti. Mi ha tirati sotto al drago, buono. Più facile. Shattate. Cazzo, sta paura. Ok. Sesta. Aspetta, vai, muoviamoci, dai. Mico, un innervate. Dai, dai, dai. Presa. A tutti su di me, qua, eh. Scusati. Dai, dai, ragazzi. Attenti al ladder adesso, facciamo il boss, però. Ok, alleata. Boss, boss. Boss, boss. Vabbè. Boss, dai. Vabbè. 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 Vabbè.